Presentiamo qui il primo teorema di De L'Hôpital, una doverosa premessa. In molti libri di liceo si fa riferimento al teorema di De L'Hôpital senza specificare primo, secondo eccetera. In realtà, quello che viene qui riportato è il capostipite di una famiglia di teoremi che si somigliano un po' tutti, ma con delle differenze importanti che sarà doveroso specificare. Per il momento qui andiamo a illustrare il primo di questi teoremi. Ecco le ipotesi. Si hanno due funzioni fdx e gdx definite in un intorno di un punto x con 0. fdx e gdx inoltre sono continue nel punto x con 0 ed entrambe nulle in questo punto. Inoltre sono derivabili nell'intorno di x con 0 escludendo al più il punto x con 0 stesso. La derivata prima della seconda funzione, cioè g primo di x, non si annulla mai nell'intorno di x con 0, escludendo chiaramente il punto x con 0 in cui non è detto che esista. L'ultima ipotesi è l'esistenza del limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate di queste funzioni, cioè f primo di x fratto g primo di x. Limite che può essere finito o infinito. Tratteremo separatamente i due casi. La tesi del teorema è la seguente. Esiste anche il limite del rapporto delle due funzioni, sempre per x che tende a x con 0, e i due limiti, cioè quello del rapporto delle funzioni e quello del rapporto delle derivate, coincidono. L'utilità di questo teorema è fondamentale per il calcolo di diversi tipi di forme indeterminate. Infatti possiamo subito osservare che, data la continuità delle funzioni f di x e g di x, che non sono continue soltanto nel punto x con 0, in realtà sono continue in tutto l'intervallo attorno a x con 0, in quanto l'ipotesi di derivabilità implica la continuità. Solo che, non essendoci per ipotesi la derivabilità nel punto x con 0, bisogna specificare a parte la continuità anche nel punto x con 0. Quindi, visto che i limiti per x che tende a x con 0 delle due funzioni fanno entrambi 0, siamo in presenza, nel rapporto f di x su g di x e con limite per il x che tende a x con 0, in una forma indeterminata del tipo 0 su 0. Questo teorema, quindi, in caso di esistenza di questo limite, fornisce una chiave per il calcolo di questo limite di una forma indeterminata, permettendo di risolverla. Prima di presentare alcuni esempi di applicazione di questa teorema, passiamo alla dimostrazione. Per la dimostrazione partiamo prima da un caso particolare, cioè andiamo a considerare il caso in cui il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate sia uguale ad un valore finito, quindi ad un numero reale L. L'esistenza di questo limite è garantita dalle ipotesi, però per ora stiamo trattando il caso in cui il limite sia finito. Allora, questa ipotesi ci permette subito di scrivere, data la definizione del limite, che comunque si scelga un epsilon maggiore di 0, esiste un intorno, chiamiamolo intorno numero 2 di x con 0, per distinguerlo dall'intorno presente nelle ipotesi, tale che per ogni x appartenente a tale intorno di x con 0, escludendo al più il punto x con 0, è verificata la condizione L meno epsilon, minore della funzione di cui stiamo calcolando il limite, cioè f' di x fratto g' di x minore di L più epsilon. Questa è la scrittura che possiamo utilizzare basandoci sull'ipotesi di esistenza del limite. Chiaramente l'intorno i2 di x con 0 deve essere un intorno in cui la funzione f' di x su g' di x deve essere calcolabile, quindi in generale è chiaro che l'intorno numero 2 che stiamo qui scrivendo è un sottoinsieme dell'intorno in cui la funzione è definita ed è derivabile. Non perdiamo di generalità se ammettiamo che questo intorno i2 di x con 0 sia un intorno circolare del tipo x con 0 meno delta x con 0 più delta. Questo ci sarà comodo nella parte successiva della dimostrazione. Mettiamo un attimo in pausa questo discorso basato sull'esistenza per ipotesi del limite del rapporto delle derivate e occupiamoci invece adesso del rapporto delle due funzioni, ovvero di f di x fratto g di x. Ricordiamoci infatti che scopo di questo teorema è dimostrare l'uguaglianza di questi limiti, quindi dobbiamo mettere in relazione il rapporto delle funzioni con il rapporto delle derivate. Il rapporto delle funzioni infatti potrebbe avere un problema di esistenza perché nel momento in cui andiamo a mettere la funzione g di x al denominatore un eventuale annullamento della funzione g di x comprometterebbe l'esistenza del rapporto. Noi sappiamo per certo che g di x con 0 è uguale a 0 così come uguale a 0 il numeratore in corrispondenza di x con 0, quindi in ogni caso il massimo che possiamo aspettarci è l'esistenza di questo rapporto nell'intorno i di x con 0 escludendo il punto x con 0, ma anche per questa condizione dobbiamo essere certi. E allora ragioniamo per assurdo. Supponiamo che esista, lo facciamo in un riquadro a parte perché qua stiamo facendo una deviazione rispetto al discorso principale, supponiamo che esista un punto x1 diverso da x con 0 tale che risulti g di x1 uguale a 0. supponiamo per esempio che sia x1 maggiore di x con 0, non è però strettamente necessario solo per poter scrivere correttamente il resto, si può fare la dimostrazione di modo analogo anche quando x1 è minore di x con 0. E allora nell'intervallo x con 0 x con 1 la funzione g soddisfa le ipotesi del teorema di Rolle, infatti il teorema di Rolle richiede che la funzione g sia continua in questo intervallo e la continuità ce l'abbiamo, perché nell'ipotesi abbiamo la continuità nel punto x con 0 e la continuità in tutto l'intorno, quindi anche in x1 che è un punto di questo intorno. Poi la funzione risulta derivabile nei punti interni, cioè in x con 0 x1, anche questa ce l'abbiamo nelle ipotesi del presente teorema, e inoltre deve risultare g di x0 uguale g di x1, cioè la funzione deve assumere lo stesso valore all'estremità dell'intervallo e questo lo stiamo mettendo come ipotesi per assurdo, cioè la funzione g si annulli anche nel punto x1, oltre ad annullarsi già nel punto x con 0. Ma queste ipotesi per il teorema di Rolle mi portano alla tesi per cui esiste un punto, diciamo, x segnato appartenente all'intervallo x0 x1, tale che si abbia g' di x segnato uguale a 0, cioè un punto in cui la derivata prima della funzione g va ad annullarsi. Il punto è che x segnato è sicuramente diverso da x con 0, perché questo è un intervallo aperto, e quindi con questa tesi del teorema di Rolle andiamo a negare una delle ipotesi del presente teorema di De L'Hôpital che stiamo cercando di dimostrare. Infatti nelle ipotesi abbiamo che la funzione g deve avere derivata diversa da 0 in tutto l'intorno. Essendo arrivati a questo assurdo, cioè ad una negazione delle ipotesi del teorema, dobbiamo necessariamente ammettere che questa condizione non sia verificata e che quindi il rapporto f di x su g di x esiste in tutto l'intorno di x con 0, escludendo chiaramente il punto x con 0. Detto questo, ora possiamo occuparci del limite. Torniamo cioè al fatto che il limite del rapporto delle derivate vale L e quindi vale questa condizione quando si prendono valori di x nell'intorno numero 2, che è un sotto insieme dell'intorno principale i di x con 0. A questo punto noi possiamo dire che scelto un epsilon maggiore di 0 per ogni x appartenente al corrispondente intorno i con 2 di x con 0 vale la condizione L meno epsilon minore di F' di x fratto G' di x minore di L più epsilon. Adesso supponiamo che sia x maggiore di x con 0, possiamo fare un ragionamento analogo nel caso contrario. E quindi andiamo a considerare l'intervallo x, 0, x. È chiaro che nel caso in cui fosse x minore di x con 0 andremmo a considerare l'intervallo x, x con 0. Il ragionamento che adesso faremo vale in entrambi i casi. A questo intervallo o al suo analogo si può applicare per le funzioni F e G il teorema di Cauchy. Infatti le ipotesi sono soddisfatte. Le funzioni in questo intervallo sono continue, anzi sono continue nell'intervallo chiuso, come richiesta dal teorema di Cauchy, sono derivabili nell'intervallo aperto e inoltre la derivata della G, abbiamo detto, non si annulla in questo intervallo. Avendo le ipotesi del teorema di Cauchy soddisfatte, segue che esiste un punto C appartenente all'intervallo x, 0, x, ai punti interni di questo intervallo o al suo analogo x, x con 0, tale che vale l'uguaglianza f di x meno f di x con 0 fratto g di x meno g di x con 0 uguale al rapporto delle derivate f primo di c fratto g primo di c calcolate nel punto C. Questo ci dice la tesi del teorema di Cauchy. Questa uguaglianza ci torna utile se adesso prendiamo in considerazione il limite che abbiamo appena citato, perché intanto f di x con 0 e g di x con 0 per ipotesi sono entrambe nulle. Di conseguenza ci ritroviamo con l'uguaglianza f di x fratto g di x uguale ad f primo di c fratto g primo di c. Inoltre, visto che c è interno all'intervallo x, 0, x o al suo analogo, possiamo certamente dire che c soddisfa l'appartenenza all'intorno i due di x con 0 per cui vale questa disuguaglianza. Per cui noi possiamo scrivere questa disuguaglianza con c al posto di x. Quindi abbiamo l meno epsilon minore di f primo di c fratto g primo di c minore di l più epsilon. D'altro canto, visto che questo rapporto è uguale al rapporto delle due funzioni calcolate nel punto x, possiamo anche scrivere la stessa catena di disuguaglianza sostituendo al posto del rapporto delle derivate il rapporto delle funzioni. Cioè abbiamo l meno epsilon minore di f di x fratto g di x minore di l più epsilon pur di prendere x nell'intorno i con 2. E questo, vista l'arbitrarietà nella scelta di epsilon, significa sostanzialmente che il limite per x che tende a x con 0 di f di x fratto g di x è uguale a l, cioè uguale al limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate. Questo perché il rapporto delle funzioni soddisfa le stesse condizioni per l'esistenza del limite del rapporto delle derivate. E in questo modo abbiamo dimostrato l'uguaglianza dei due limiti che è esattamente la tesi del teorema, come possiamo vedere. Trattiamo ora il secondo caso, quello in cui il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate f' di x fratto g' di x sia uguale a infinito anziché essere uguale ad l numero reale. La catena di ragionamenti utilizzata finora, quella che va dall'applicazione del teorema di Rolle per dimostrare l'esistenza del rapporto delle funzioni, all'applicazione del teorema di Cauchy per dimostrare l'uguaglianza del rapporto delle funzioni f di x su g di x al rapporto delle derivate f' di c fratto g' di c in un opportuno punto c rimane invariata e valida. Cosa occorre cambiare? Occorre cambiare il modo in cui è scritta la definizione del limite. Scriveremo adesso che, visto il limite infinito, per ogni m positivo esiste un intorno 2 di x con 0, tale che per ogni x appartenente a tale intorno, escludendo il punto x con 0 al più, vale la condizione valore assoluto di f' di x fratto g' di x maggiore di m. Tornando alla catena di ragionamenti che avevamo usato, è tutta uguale tranne che la condizione del limite deve essere riscritta. Rimane il fatto che la catena di ragionamenti porta a una condizione simile per il rapporto delle funzioni, cioè si arriva a dimostrare che f di x fratto g di x in valore assoluto è maggiore di m se si prendono valori di x che soddisfano questa condizione. E da qui discende il fatto che esiste il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle funzioni, f di x su g di x, se anche questo è uguale a infinito. Cioè anche in questo caso abbiamo l'uguaglianza del limite del rapporto delle derivate con il limite del rapporto delle funzioni, ovvero si va a completare la tesi del teorema di De L'Hôpital.